Popo? Presumo. Ciao. Sono entrata con la chiave. Lei è... Lo so. Credevo che il punto fosse liberarsi di Popo. Mio padre deve togliersi una cisti e mia madre ha dovuto accompagnarlo in clinica. Non ti preoccupare, fra un'ora se ne va. Io non mi preoccupo, non è un mio problema. Mi sembra molto tranquilla. Perché non l'hai vista ubriaca?